Pulso che bisogna dare al paese per ripartire e dall'altra vi raccontiamo in questo servizio di Roberta Cerqua è un paese che nelle sue persone non si è mai fermato, in particolare guardate questa storia che ha girato a Bari. L'Istituto Alberghiero Maiorano di Bari è protagonista di un progetto che vede gli studenti vicini alla cittadinanza. Abbiamo deciso di dare anche noi un contributo in questo momento così particolare della nostra storia mondiale, non soltanto italiana, in un quartiere abbastanza difficile. I lunchbox vengono distribuiti per tre giorni a settimana per circa 120 famiglie bisognose del quartiere. La cittadinanza ci è molto grata e noi siamo contenti di dare un contributo e un aiuto. E tra l'altro in queste giornate particolari lo chef Schingaro, che è uno chef stellato famoso, ha dato una mano a preparare pasti. E come si riescono a rispettare i criteri di sicurezza in questo momento? Ovviamente gli alunni sono tutti protetti, oltre che dalle mascherine e anche dai guanti. Il pasto è composto da un primo, da un secondo e anche dal dolce o dalla frutta a seconda delle giornate. I ragazzi a rotazione partecipano tutti alla preparazione dei pasti e poi anche alla distribuzione. È un'emozione sapere che mangiano ed è buono il nostro cibo. Bisogna aiutare. Se non ci aiutiamo in questi momenti un po' critici, uno con l'altro, che cosa si fa? Nel mio piccolo faccio quello che posso. Se non c'era questo, è anche qualcosa quando andiamo alla chiesa che ci danno il vivere. Sto a vedere cosa sta succedendo. È una cosa importante che ci aiuta. Sto a vedere cosa sta succedendo.